Ciao a tutti, eccoci qui in redazione a Moto.it con... beh, cominciamo dall'estrema sinistra. Edoardo Ricciardello, ciao Edo. Ciao a tutti. Andrea Perfetti, ciao Andrea. Ciao a tutti. E qui di fianco a noi c'è Jacopo, presidente del Motoclub 125 Stradali. Buongiorno a tutti. Ciao Jacopo, parliamo di 125 Stradali perché il Motoclub ha delle grandi attività, voi già lo conoscete sul sito, l'abbiamo parlato diverse volte, soprattutto una grande passione. Per cominciare inquadriamo esattamente le vostre attività, poi parleremo del trofeo perché si parla anche qui di racing, di piste. Allora Jacopo, quanti siete, di che provenienza e che tipo di 125 amate? Allora, il Motoclub 125 Stradali è nato quest'anno come Motoclub. Prima esisteva come 125 Club Italia. Tra una cosa l'altra siamo un centinaio di appassionati registrati, iscritti e diciamo che tutto è nato anche un po' più indietro, diciamo da una decina d'anni. Quando io sognavo la mia 125 dell'epoca, che era una Honda NSR e nonostante avessi avuto tante moto, sognavo quella. Quindi a un certo punto ho iniziato a cercarla e così l'ho ricomprata. Mi vergognavo un attimo perché pensavo fosse un pazzo fondamentalmente, perché è uno che si ricompra la 125. Invece poi mi sono accorto che non ero l'unico pazzo, ce n'erano tanti e quindi è nata tutta l'idea del Motoclub e siamo qui oggi. Avete insomma in tessuto rapporti, consigli? Certo, abbiamo iniziato a creare un sito che si chiama 125stradali.com che è diventato un po', se vogliamo, la bibbia degli appassionati perché è completamente gratuito e offre un database completissimo su tutte le 125 mai prodotte nel periodo, diciamo 1984-1994, che sono gli anni d'oro. Tu poi, Nicolo, sei meglio di me perché le hai provate tutte queste moto e quindi sai quanto importanti sono state per l'industria nazionale in quegli anni. Oggi siamo iscritti, siamo un Motoclub affiliato all'FMI, quindi possiamo fare le tessere FMI member, sport, eccetera, le licenze agonistiche. E senti tutti allineati sulla tua età, nel senso tutti quelli che hanno vissuto la 125 da 16 anni? Certamente sì, diciamo che l'età va dal 1968, classe 68, classe 78, quelli sono gli anni, però abbiamo anche dei fuoricampo, tra cui il nostro amico che tu conosci bene, Andrea, al massimo, che è del classe 1952, quindi che è più pazzo di tutti noi messi assieme, e poi anche qualche giovane che, diciamo, subisce il fascino delle vere 125, quelle che avevano potenza, che andavano a 170 orari. Non vi accontentate di una moto, ne avete più di una. Tu quante ne hai, per esempio? Allora, visto che probabilmente mia moglie mi sta guardando, io ne ho assolutamente una, due forse. Poi un mio amico mi ha detto che ce n'è uno che ne ha 35, però non sono io, e poi gli altri amici ne hanno anche loro un po'. Diciamo che insieme, secondo me, un 200 moto le mettiamo assieme, però. E appunto, Andrea? Bisogna anche dire di questo pazzo che ha la casa di Massimo, un ragazzo che hai citato prima, ragazzo del 1952, hanno una casa piena di 125. Ne hanno così tante che hanno riempito anche il salotto, la sala da pranzo, però un po', vedremo 125 sbucare in bagno a fianco... Abbiamo provato a mettere una dentro, in effetti, però esce per metà, quindi... E Nico, la cosa bella dell'attività che fanno questi ragazzi è che noi abbiamo cominciato a riprendere gli articoli su moto.it perché i 125 sono moto belle, tu ce le hai fatte amare in questi anni, però hanno avuto un seguito enorme anche con i lettori di moto.it adesso, quindi è bello averli visti crescere perché adesso sono diventati un motoclub FMI, l'hai detto con 100 iscritti. Sì, essendo nati praticamente a gennaio direi che è un bel risultato, insomma. Quali sono le moto più gettonate? Guarda, le moto più gettonate si discute sempre tra gli anni 80 e 90, io sono classe 77, quindi tendenzialmente amo di più gli anni 90, perché hanno delle ciclistiche migliori. Sei vicino ai 30 cavalli veri e comunque sono moto divertenti. Vedi, la differenza rispetto a chi aveva le 125, chi colleziona 125 anni 60, anni 70, le regolarità, per esempio, è che quelle sono moto specialistiche. Esci, ma non ci fai un granché. Con le nostre moto invece esci e ti diverti come un pazzo. Con 30 cavalli, se sei sgammato la guida, i metti dietro le 1000, insomma. Ovviamente su piccole, sulle curve strette, diciamo. Sì, sui mercorsi più misti. Però certamente di quegli anni 90 è rimasta famosa la corsa, le potenze, il seguimento, le prestazioni. Assolutamente. Con un ingaggio proprio di competizione tra l'Aprilia, soprattutto da una parte, e la Cagino. Si guardava il centesimo di cavallo. Che siamo arrivati a delle moto che viaggiavano a più di 190 all'ora nei test delle riviste specializzate. Sì, poi quelle che arrivavano alle riviste erano anche un po' limate. Naturalmente, passavano anche dal reparto corte. Ma quello che volevo sapere, le prestazioni sono comunque di moto di quegli anni lì molto elevate. E l'affidabilità come ve la cavate? Allora, guarda, dipende dalla marca. Se passi da Honda NSR, puoi tranquillamente... No problem, vai tranquillo. Se passi su Cagiva, diciamo, una via di mezzo, apriglia, devi rifare i motori a zero. E allora così sono affidabili. Se invece pensi di fare un restauro conservativo, tempo due o tre anni, rimani a piedi. Anche perché i ragazzi di 125 stradali le moto le usano tantissimo. Non sono moto, a parte quelle che mettete in salotto da Massimo. No, ma anche quelle in salotto, guarda, le giriamo. Perché siamo... Ecco, quello ci tengo molto. E toccato un bel punto. Noi siamo un motoclub fondamentalmente di motociclisti. Quindi le moto, amiamo restaurarle, amiamo giocarci intorno su tutti i dati tecnici, quanti ne hanno prodotti, eccetera. Però alla fine amiamo usarle. In tutte le nostre moto noi le usiamo. E il bello è quello. Perché ti danno una soddisfazione incredibile. Noi abbiamo coinvolto Edo, anche perché poi lui è dato in pista, e ha provato una delle vostre 150 o più di uno. Esatto, una. Una grazie a Oliviero Danelli, che è l'anima del trofeo di cui parleremo dopo. Ha già gentilmente prestato la sua mito, e facendoci fare un tuffo nel passato. Un tuffo anche traumatico, perché ormai, come dicevo con alcuni amici, raccontando questa esperienza, non siamo più abituati ad avere delle erogazioni così appuntite, delle ciclistiche così agili e nervose, perché siamo tutti ormai viziati. Siamo passati tutti da quattro tempi. Il 600 la consideriamo una moto piccola, e quindi quando torna sul 125 il cervello va in tilt. Però è un'esperienza rinfrescante, ed è molto bella, perché le potenze in gioco sono basse, e quindi si riesce a concentrarsi di più sulla guida, fanno meno paura. Sei tu che guidi la moto, non è la moto che porti in giro te. E si impara a guidare, perché lì ogni minimo errore lo paghi carissimo, in termini di tempo sul giro. La guida fina. La guida fina, si impara di nuovo a guidare tondi, a guidare precisi, perché quando apri, se non sei al regime giusto, non esci dalla curva. Si impara anche a grippare. Si impara anche a grippare, perché purtroppo succede. E si è persa l'abitudine. Anche nel dittino sulla frizione. Si è persa l'abitudine di tenere il dito sulla frizione. A me è successo, purtroppo, quasi subito, e come raccontavo prima Nico, il cervello subito non ha realizzato cosa stava succedendo. Soltanto solo un attimo, mi sono ricordato i fragetti in cui ero, ho tirato la frizione, e beh tutto bene, vedete in via di fuga, però è un'ottima esperienza. E' una cosa molto bella. Parliamo di campionato, perché questi hanno in ballo anche un campionato, non paghi di riempire le case di moto. Bravo Nico, infatti Edo era proprio lì per prendere le misure con le moto, con la pista, ha preso le misure e non correrà, perché abbiamo deciso di mandare... Perché abbiamo scoperto che in redazione abbiamo un altro matto di quelli di cui parlava prima Jacopo, che parteciperà a tutto il campionato, con la sua Aprilia, Luca Frigerio, che avete già probabilmente incontrato in qualcuno dei nostri video, in qualcuna delle nostre prove, che si vuole mettere a prova su tutto l'arco del campionato, e quindi abbiamo pensato che fosse un'ottima opportunità per far parlare. E Nico, campionato vero, adesso facciamo parlare a Jacopo, inserito dentro il calendario FMI del Moto Estate, con due categorie, una che ho definito da sparo e l'altra un po' a marcord. Esatto. Sì, diciamo, la categoria da sparo praticamente il limite è la cilindrata e il telaio della moto che deve rimanere con l'originale. Quindi si hanno anche dei costi abbastanza importanti, perché per preparare una moto di quel livello potenzialmente vanno a via dai 10 ai 15 mila euro, quindi parliamo di moto abbastanza costose. Sul discorso invece a marcord, come l'hai chiamato tu, che noi chiamiamo SP, la moto è essenzialmente quella originale, quindi sì, due accorgimenti, le sospensioni al motore, ma nulla di che, e si può partire con una moto che da 2-3 mila euro si fa un campionato. Anche il treno di gomme, visto che le potenze in gioco non sono particolarmente elevate, non dico che dura tutta la stagione, ma quasi, quindi i costi sono abbastanza gestibili, direi. Avete un numero chiuso? Perché rischiate di fare la plan? Ma, numero chiuso per adesso no, al primo anno, però posso dire che abbiamo già 20 piloti iscritti per tutte le gare, che sono 5, con la prima che è il 30 di aprile a Varano, e l'ultima che si chiude a 1 ottobre è sempre a Varano. Quindi circuiti, abbiamo circuiti per le 125, quindi appunto Varano, abbiamo la Cervesina, Franciacorta, Modena, e quindi, insomma, c'è da divertirsi. Adeguati. E Nico, pensa che vogliono scoraggiare i ragazzi, o i ragazzi giovani, o semplicemente i ragazzi magri, perché la categoria Amar Call hanno messo il peso minimo, devi lavorare la moto, è una cosa vergognosa. Sì, quello l'abbiamo fatto anche per tenere una competitività... 200 kg di peso minimo, queste moto grippano per forza dopo. Ma no, alla fine, guarda, se non siamo più sedicenni, quindi se calcoli un po' il peso del guidatore, si arriva facilmente ai 200 kg. Adesso Oliviero non me ne voglia, ma insomma, lui c'è molto vicino. E anche tu lo fai? No, io no, io devo seguire, io seguo più la parte stradale del motoclub, quindi facciamo tanti raduni con le 125, il cui primo raduno sarà proprio il 29 aprile, quindi a margine della gara, prima della gara, nella zona dei castelli del Parmense. Quindi io sono, io mi occupo più della parte stradale, Oliviero invece è la parte agonistica e lui corre. E a proposito di raduni, adesso facciamo passare anche le immagini del raduno a cui abbiamo preso parte. Abbiamo conosciuto proprio durante un raduno di 125 con ospite Francesco Paolillo. Esatto, si è divertito come un pazzo con una futura replica del 1991. Poi l'ha provato a tutti. Sei ovunque. Basta che si mangi e Paolillo c'era. Si, si, ha mangiato bene. Ha mangiato bene. Jacopo, raccontaci i costi per partecipare al campionato 125 categoria AmarCord, quindi non costi alti come l'altro. Allora, come ti dicevo, le moto, per approntare una moto decente, quindi partendo come base, non so, una Cajiva Mito, un'Apriglia RS, ma anche un'onda NSR, vai sui 1500-3000 euro, più o meno, dipende poi da come la vuol fare. Per iscriversi più o meno saranno un migliaio di euro. Poi c'è da dire che noi offriamo un hospitality da moto GP, perché Olivero si è comprato un camion e si porta dietro una cucina, quindi offre anche un hospitality con tanto di cuoco e quant'altro. Quindi, praticamente, con un prezzo di 20 euro al giorno uno fa pranzo e cena e mangia in pista, il che è molto bello, perché si crea anche tutto quell'ambiente delle corse che oggi si è un po' perso. A proposito di questo ambiente, è un campionato sicuramente rivolto agli amatori, rivolto, come abbiamo detto, gente che magari soffre anche un pochino di nostalgia, rispetto a quelle cose, però magari anche su gente un po' più giovane, che magari impara qualcosa dalle moto e dagli altri piloti, perché magari qualche bel nome, qualche pilota di... Ma infatti, noi ci creiamo molto, perché creo che verrà sicuramente tra i giovani ci sarà qualcuno che poi potenzialmente potrebbe andare a fare delle categorie più professionali e più importanti. Quindi si fa le osse comunque in un campionato che è estremamente competitivo con dei costi relativamente bassi e poi abbiamo qualche vecchia gloria, tipo, non so, mi viene in mente Enrico Repetti, che è il nostro socio che ha corso con le TZR negli anni del campionato SP e che è stato l'unico a portarla sul podio, perché quella moto era un po' difficile. Non era la più competitiva. No, però lui ce l'ha fatta e quest'anno corre con l'Aprilia, ma vabbè, sarà da ridere. Poi ne abbiamo altri, ad esempio Claudio Pellizzon, mitico con la dottora Aprile, ci ha promesso di venire a correre. È un caro amico Claudio e adesso, vabbè, si è un po' fatto male con l'ovale, ma appena si riprende lui non lo stacchi dalla tuta di pelle, insomma. Assolutamente. Il campionato lo seguiremo tutto su moto.it con Luca Frigerio che farà i video con l'onboard, quindi anche il video delle partenze con i 125 come nella mitica 125 del moto mondiale di un po' di anni fa. Sì, è lì è tutto frizione e gas. Frizione e gas, fumate azzurre e via. Fumate azzurre e via, esatto. Nico, a proposito di fumate azzurre. No, certo, fumate azzurre, penso, tu che ti occupi soprattutto della strada, ci sarà un'accoglienza, beh, sempre divertita, perché comunque vedere un gruppo di folli con le motorette vecchie, però ci sarà anche tanto fumo. La gente come vi vede? Guarda, alla fine il fumo lo vediamo noi quando torniamo a casa con la visiera impregnata d'olio, anche perché a volte c'è chi arriva con la carburazione in più grassa e quindi è meglio sempre stare avanti che indietro nel gruppo. Però ti dico, torno sempre a casa, veramente felice perché vedo tanti tanti ragazzi che hanno ormai la nostra età, che quando ci vedono in gruppo si avvicinano al semaforo oppure quando siamo fermi e ci chiedono della moto, ci raccontano della loro 125 che avevano all'epoca, quindi veramente sono moto che, come dice un mio amico, fanno girare anche i semafori, quindi con lo passano. Ritorno a quella passione là e sanno suscitare ancora il battito. Ti rendi conto che quanti cuori hanno fatto battere, quanti cuori fanno ancora battere. Sì, soprattutto per me che appunto grazie alle tue prove le sognavo quando avevo 16 anni è stato molto molto bello tornarci in pista ed è un'esperienza che sinceramente consiglio, consigliamo a tutti perché è appunto didattica perché si impara a guidare poi si scoprano delle sensazioni bellissime, si perde un vent'anni nel momento in cui si siede sulla sella e si ricomincia a guidare perché scopri poi dopo tante cose che avevi dimenticato soprattutto se le hai guidate a suo tempo. Andrea, David, trovi tu un sassolino dalle scarpe perché ti hanno trattato male una volta. Sì, ma io a proposito della fumera in strada vieterei la loro circolazione perché sono altamente in finanza. È bello in pista, queste cose sono divertenti però su strada basta i 125 detenti. Concordo, infatti monteremo tutti i motori quattro tempi l'anno prossimo. Grazie Jacopo, se non lo scoprivate se non lo sapevate già avete scoperto un mondo che vale la pena di essere esplorato quindi complimenti grazie a voi bocca al lupo per tutte le vostre attività. Grazie a voi, grazie veramente e io spero di rivedere Nico su una 125 prima o poi. Grazie Andrea, grazie Edo. Grazie, ciao a tutti voi. Ciao.